Benvenuti nel mio regno, io sono Pegania da Queen of the World e siamo di nuovo su Figo17 con il nostro Peppino, anzi nella carriera del nostro Peppino il matto, insieme a Miro! Bella raga! Non ho il joystick, non mi danno il joystick, quindi non si può giocare, dammi un joystick! Dopo, 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 dopo! Dopo mi do il joystick! Dai! Allora, che andiamo a fare oggi? Che andiamo a fare? Oggi andremo a... Oggi andremo a affrontare il nostro Ferrara Il nostro Spal Che sappiamo che è la Spal in questo gioco Spal che non è in classifica con 47 punti, mentre noi siamo lì secondi con 64, quindi... Sempre secondi Quindi, incrociando le dita, dovrebbe essere una partita abbastanza semplice, però si sa che l'avellino è pazzo come il Peppino il matto Se no, non andavano bene Non ce lo comprava Niente, che altro dobbiamo aggiungere? Siamo pronti già? Siamo pronti, dai, carichi! Dammi il joystick, giochiamo! Siamo pronti già cosenta E' l'importo più chietta E' lì Stengel, come al solito, vicino a Peppino ormai Amigoni Insieme a... Come si chiama? No, che è fatto Ormai al centrocampo è tutto loro Per niente, Stengel e Peppino, al pieno che applauda se stesso Pina, approde sempre Arbitro a un pelato, Leopardi Famotissimo, Leopardi che fa l'arbitro Giacomo E subito si comincia Aspetta Taccajiro Bellissimo Iniziamo subito spomeggiante Io mi concentro un attimo perché... Che signore subito lì Stengel! Nooo, per poco! Una brutta pezza di Stengel Calcio d'angolo Stava dicendo che non c'entro un attimo perché è un po' che non giochiamo Detesta Peppi! Uuuu Quasi Ardemagni Si inventa qualcosa di strano Che cosa? Cosa si è inventata da Ardemagni? Niente, niente Sì, c'è inizimento di Ardemagni che bella parata da Peppino Peppino potrebbe tornare indietro No, 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 sbagliate, era il cross col cerchio Peppino è proprio macchio ragazzi Il cross era col cerchio, no, col quadrato, è stato sbagliato Vabbè, dai Oh, oh, oh Non è fallo, non fa Solerio Peppino è morto Bella palla per Castaldo Dai, dai! Castaldo! Palo di Castaldo! Non lo potevo riprendere e fare ta Invece ero un metro più in là Peppino Peppino che fai? Uuu Per poi voglio avere il domani la mette in mezzo Il tiraccio di Ordemagni Uh, tiraccio è brutto però, eh Ma non fa dove Castaldo, eh Ha voluto fare l'Eurogole Lui voleva fare Tanto qua, cosa ha fatto Meret Bruttissimo Castaldo Castaldo Retra E' entrata Ci ha messo tre anni ad entrare Ma la palla è dentro 1 a 0 Avellino Castaldo in un periodo bruttissimo Castaldo con il bruttissimo Guardalo, guardalo, guarda Peppino Guardalo, guarda, guarda Peppino No, peppinarte le mani Mamma mia Allora, tre bellissimi Loro 1 a 0 Ha segnato il capitano Castaldo Con un gol di Bella palla tanto di Peppino per Non so chi Destro Altro palo E' due Due pali, ragazzi Due pali in venti minuti Ma che succede? Ma è allucinante Sette tiri in porta Ma è allucinante Due pali in venti minuti Ecco Castaldo, allora Volevo un po' più lunga Di prima Bella palla per Peppino Armatto Che potrebbe tirare Peppino? Guarda che si è mangiato Peppino Di quanto Di quanto Guarda come era piazzata bene Forse cacciodango forse No, no, niente Niente Se le mangiare Antenucci Antenucci Guarda sul mister Fisico E dai E vabbè pure Giallo Per Peppino Armatto Risperato Peppino Sa che i cartellini Gelli non sono contemplati Da mister Novellino Esatto Casparetto Bella palla per Peppino Armatto Ardiamanni La larga ancora per lui Peppino Armatto Peppino Armatto E' un po' che cosa combina La mette in mezzo Bella No Che non ci arriva Si 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 Schiattarella Eh beh E dai no E' spulso Peppino Probabilmente No Vedremo Ma è vero Cosa succede Lazzarri Ma non l'ha neanche toccato Lazzarri Oh prova C'è bellato Attenzione Destro Perato C'è devi provare Perato No Non l'ha neanche toccato Sergio Flocca Reate se una spalla Entrava Diversamente Infatti vedete Il buco L'ho visto L'avevo capito Spalla che è entrata Proprio con Perché non l'hai fermato Guarda lì Passaggio veloce Papapam Pam 1-1 1-1 Sta finendo la partita Per best ultimazione Laverone Manda avanti Peppino Che non corre Non c'è arrivato Non ha più corso Non ce l'ha più fatta Ha corso Ma non c'è arrivato 1-1 Spalla Davvero tosta Abbiamo iniziata Bomba E poi ci siamo fatti Recuperare così Con un gollo Stupido Nel secondo tempo Si è Si è svegliata La spalla Si sono entrati Con un piglio Differente Primo tempo Dominata Due palli Che potevano Portarci Due palli Mamma mia E niente Dai andiamo a vedere Due palli Di Ardemagni Uno di Ardemagni L'altro Mi sa di Stengel Avellino Vicenza Siamo in casa E davanti ai nostri Niposi Dobbiamo vincere Basta Addizione Salito Peppino a 75 Ah E' vero Salito Bravo Amore Con gli allenamenti E con L'altra volta L'ho fatto Lì la Gente Che ho fatto Altrimenti Allora Ha fatto Questo non lo so Fa Questo non lo so Fa Questo manco Questo è una rottura Le scatole Basta Mi faccio più Ecco gli allenamenti Di Peppino Cos'è sto con Che dove fai E' morto Sulle scatole E' morto Sulle scatole Ecco Peppino Peppino Vogliamo tutta Altra prestazione A parte Di Peppino Che la partita Magari Pena Gialli Ha fatto Cosa che non deve fare De Luca vicino al gol di testa Nonostante sia alto Fino a 1,60 Vila Qui Cosa ha fatto Che qui Gli ha ridato Gli ha ridato Dov'è la palla Dov'è la palla Dov'è la palla Bella qui Peppino Matto Che la lunga Quella sic Bellissimo Palla per verde Verde ritorna Tutti in mezzo Tutti in mezzo Tutti in mezzo Mamma io Quello Dov'è la palla Un po' Dov'è la palla Bella uscita Verde sbaglia L'uscita Peppino Non una ferra Destro secco Go Bella Gol del Vicenza 1 a 0 Ragazzi Avellino In difficoltà Proprio un periodo Che sta in difficoltà Le mani La allarga bene Di là Per vita qui Vita qui Vita qui Mamma mia Che intervento Oh Niente Ma come fai Non da farlo Arbitro Ma stai Ma scherzai Stai Ma sta scherzai Allucinante ragazzi Allucinante De Luca La mette in mezzo No Uh Uh 2 a 0 Vicenza Che culo 2 a 0 Vicenza Che è rimasta lì Guarda Guarda come è rimasta Rigore Rigore Calcio di rigore Per l'avellino Ce l'ha procurato Camera A sto punto Direi Di farlo Batta a camera Ma lo batta a camera Meglio me lo batteva Peppì Finisce qua Averino a 0 Vicenza 2 Niente Altra Brutta Niente raggiunge Non so Non mi vengono neanche le parole Sono troppo amareggiano Più che altro Perché la gallina Sembrava essere Molto molto di più Poi non si sa Che è successo Sono un tracollo Dove quel pareggio I due pagli di prima Qua gli ha parato Le peggio cose Novara che si avvicina A meno uno Mamma mia ragazzi Cioè guardate Siamo stati secondi Per tutto il campionato Guardate se adesso Che mancano 8 partite 7 partite Ci andiamo a perdere Il secondo posto L'avventura della Sverona Si fa ancora più vicino E ora tra un po' C'è anche il derby Con la Ternitana Capirai Niente Niente Bisogna ripartire subito Niente Bisogna cambiare Mentre li da Come al solito Spero che il video Vi sia piaciuto Anche se l'avellino Come stiamo dicendo È calato un pochino Se così fosse lasciato Like Commentare Iscrivetevi Condividete il video Con l'universo E seguitemi su Instagram Perché Instagram è bello Io vi aspetto qui Insieme a Miro E insieme a Peppino e il Matto In un prossimo video Miau Miau Ho ancora sbagliato l'outro Io vi aspetto qui